Dottori, buongiorno, ce l'ho fatta, finalmente mi sto mettendo a registrare questo video, ve l'ho promesso, boh, non lo so, tipo forse un mese, un mese e mezzo fa. Ci siamo e siamo pronti a parlare di mixing, di coinjoin, di rendere anonimi i nostri benedettissimi bitcoin. Ma, prima di proseguire, vi faccio vedere, guardate qua cosa ho creato, perché non è che ci ho messo tutto sto tempo a caso. Infatti, ho deciso che per questi video un po' più tecnici, un po' più spiegativi, un po' più... un po' più... ferò delle guide, quindi non solo video, ma chi vuole, se lo può anche guardare tutto qua, cartaceo, guardate che cartaceo, comunque digitale che noi vogliamo salvare gli alberi. Oggi, quindi, parleremo di tutto quello che c'è scritto qui e, ragazzi, qua c'è la guida ipercompleta. Quindi, vi lascio il link in descrizione, così la potete anche condividere con i vostri amici. Mi raccomando, sapete che sono molto, molto povero in questo periodo, quindi qualsiasi azione gratuita per condividere i miei contenuti è iperapprezzata. Oggi abbiamo detto che andiamo a vedere... Facciamoci aiutare dalla foto a questo punto. Andiamo a vedere questa cosa qui, ovvero come prendere i nostri bitcoin del passato, quelli che abbiamo comprato ormai con il KYC, e cercare di rimuovere questi dati da questi bitcoin in modo che rimanga tutto totalmente sotto il nostro controllo e saremo poi noi a decidere chi questi dati se li può prendere. Teniamo la massima privacy e poi rilasciamo i nostri dati solamente a chi vogliamo. Tantissime persone, poi ci sarà anche una domanda finale, associano questi video all'evasione. Ragazzi, ognuno ci fa quello che ci vuole con la privacy. La privacy è dare le informazioni a chi vogliamo noi. No, non dare informazioni. Tutta questa procedura servirà per dire voi ora avete il controllo di tutti i vostri dati, da lì ci fate quello che volete. Comunque, non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a fare un ripassino generale, visto che è passato un po' di tempo, e poi scopriamo come fare nel pratico questo benuamato CoinJoin. Allora, visto che ce l'abbiamo, ci facciamo aiutare qua dalla nostra pagina di Notion. Prima di questo video, ce ne sarebbero altri due da guardare. Perché dico ci sarebbero? Magari a voi interessa proprio solo l'atto pratico del mixing, e quindi andate qua sotto, trovate proprio scritto CoinJoin, e vi guardate solamente quel pezzettino. Ma se volete avere il panorama completo di come e perché queste pratiche vengono messe in atto, allora vi consiglio di guardarlo da capo, perché c'è tanto altro. Noi oggi ci concentriamo su una parte dell'anonimato, ma sulla parte futura invece dovete guardare i video precedenti. Quindi, video numero uno, dove si parlava in maniera generale perché era importante e come cancellare le tracce dalle nostre criptovalute, e video numero due, invece, proprio come comprarli direttamente senza che voi sì. Allora, partiamo subito con il dire che cos'è il mixing, perché è importante capire quello che stiamo facendo, e io ci tengo sempre a mostrarvi questa foto, che praticamente rappresenta i nostri vari coin, ogni coin ha un nome stampato sopra, guardate, ce l'ho qui, guardate che figata, tra l'altro, che non ce l'ha quasi nessuno, sono uno dei pochi al mondo ad avere questa robetta qua. spero che si veda, spero in camera che si veda, spero che metta fuoco. Praticamente questo è tipo il coso per prendere il carrello, al posto della monetina, però c'è quella B di Bitcoin, la S di Sidor, meglio andati quelli che mi hanno dato il coso per le chiavi private. Comunque, proprio come questa moneta sopra ha ad esempio una S, e quindi potrebbe essere rintracciata a me, o a qualcuno, si chiama Stefano, ciao Stefano, se ci stai ascoltando, noi, quello che vogliamo fare è prendere tante di queste monete, tante di questi Bitcoin, fonderli tutti insieme, mischiarli, quindi non avere più una mia moneta, una moneta di Giorgio, una moneta di Franco, una moneta di Andrea, ma averle tutte insieme in modo che non siano più distinguibili, e come vedete nell'immagine poi risplittarle. Ognuno si riprende le sue, ma non c'è più un collegamento fisico, un collegamento concreto, un collegamento facile da trovare tra le monete che c'erano prima e quelle che ci sono dopo. Di conseguenza, io diciamo che faccio perdere le mie tracce, ma ho sempre quello che avevo prima. Questo è come funziona il mixing. Prendere le monete, metterle tutti insieme a tante altre persone, e poi riprendercele. In modo che, nel mischiare tutto quanto, come faccio a sapere quali sono le mie? Cioè, è normale che se io avevo dieci Bitcoin prima, ho anche dieci Bitcoin dopo, quindi chissà che io avevo quei Bitcoin, continuerà a sapere che io ho quei Bitcoin. Ma come fa a sapere quali sono? Cioè, io da lì in poi faccio perdere le mie tracce, quindi da lì in poi posso dire no, io guarda, dieci ne avevo prima, ma poi li ho spesi di qua e di là, hanno fatti un po' fuori, non sono tutti miei, e loro, senza sapere quali sono gli indirizzi, non possono seguirli, non possono tracciarli, quindi perdono le mie tracce. Quali sono i, diciamo, quattro principali metodi per mixare i nostri Bitcoin sono Whirlpool, Join Market, CoinJoin, che sarà quello che andremo a vedere più nello specifico perché è quello che utilizzo io stesso, e anche attraverso il Lightning Network. Infatti, molti lo sottovalutano, ma il Lightning Network, nonostante non sia ancora perfetto, ha molto, molto, molto il focus incentrato anche sulla privacy. Quindi, il Lightning Network non è solo una soluzione per scalare Bitcoin, per renderlo più veloce e meno costoso, e anche una pratica per aumentare la privacy, che ricordiamo, su Bitcoin è pessima. Cioè, su Bitcoin, dove è tutto trasparente, è molto difficile far perdere le proprie tracce. E quindi, ecco che, insomma, Lightning Network è uno degli altri sistemi che possiamo utilizzare. Direi di partire con i primi, così ci ritogliamo in fretta, tanto vi do giusto due o tre chicchette per informarvi e farvi capire cosa sono e poi ci buttiamo nella pratica vera e propria. Il primo metodo del quale parliamo è Whirlpool ed è un sistema sviluppato dagli sviluppatori di Samurai. Non so se avete già visto Samurai Wallet, io sinceramente non l'ho mai utilizzato. È un wallet che è prettamente smartphone. Adesso io qua, vedete che vi ho messo anche il linkettino. Allora, ve lo faccio vedere qua. Andiamo a guardarlo insieme. Allora, banalmente, vedete qua c'è già appunto la presentazione di questo wallet e la funzione che a noi interessa per fare questo mixing si chiama Whirlpool. Allora, vi dico un po' di cose. In realtà, tra l'altro io ho anche provato a scaricarlo per Mac, quindi direttamente sul computer, ma da quello che ho capito non è un software che prendi, lanci e vai. Bisogna fare diverse integrazioni e infatti, guardate, non è partito ma dato degli errori. Ora, probabilmente perché bisogna, non so se bisogna installarsi un nodo, bisogna avere altre applicazioni sopra, non mi interessa nel senso perché anche altri bitcoiner mi hanno tra virgolette sconsigliato di utilizzare Samurai e quindi Whirlpool. Perché? Perché innanzitutto gli sviluppatori di quello che ho capito sono un po' strani, sono tipo un po' arrogantelli, un po' tutte sulle loro che hanno sempre la ragione dalla loro parte, non vogliono sentire spiegazioni, insomma, sono molto rompicoglione, non so come dire, non li ho mai conosciuti, però non girano bellissime voci su di loro e in più anche fino a poco tempo fa il codice che avevano sulla loro applicazione non era open source e cazzo, cioè se vuoi lavorare con bitcoin la base è dare tutto open source nella maniera principale. In più questa soluzione non ha assicurazione sulla privacy. Cosa vuol dire? Che se io non utilizzo questo protocollo attraverso un mio nodo ma attraverso quello di samurai quindi banalmente scarico l'app sul telefono e faccio il coin join tutti i miei dati sono messi in chiaro e quindi non è proprio la cosa massima per utilizzare questa applicazione. Tra l'altro loro hanno un nodo che se non mi sbaglio si chiama fermi tutti eccolo qua Ronin Dojo praticamente un nodo plug and play tutta roba loro non lo so magari se c'è qualcuno che l'ha utilizzato e mi vuole dire no ma guarda che figo perché questo è quello o quell'altro volentieri vi sto ad ascoltare io per quello che ho ascoltato in giro secondo me è una soluzione che ha poco senso io sinceramente pro non ne ho trovati in questa soluzione cioè non ha alcun vantaggio chiaro quindi sappiate che esiste si può utilizzare se volete far tutto da smartphone questo sicuramente un vantaggio può essere fatto tutto da smartphone cosa che non si può fare con le altre soluzioni con l'i3 network si da dire la verità ma l'i3 network un po' più complicato comunque prima soluzione Whirlpool come sempre tutti i link in descrizione o ancora meglio qua all'interno della nostra guida poi proseguiamo con join market ci andiamo su una soluzione che invece mi è stata anche consigliata ora non ricordo con precisione i numeri ma fate più o meno il conto che se su Whirlpool e CoinJoin più o meno vengono transati adesso mi pare sia al giorno o al mese come volumi comunque per darvi un metro di misura parliamo di circa 1000 bitcoin transati adesso CoinJoin i dati non sono ancora attuali ma si parla tipo tra i 1000 e i 2000 una roba del genere su join market transano circa 6000 bitcoin cosa vuol dire che il protocollo viene utilizzato molto di più principalmente perché i veri definiamoli così massimalisti preferiscono utilizzare join market perché è una soluzione totalmente decentralizzata però proprio per questo è anche più complessa perché si può fare solamente attraverso il proprio nodo è una cosa quindi molto più tecnica che non avrei nemmeno sinceramente le competenze per spiegarvi però giusto per farvi capire il funzionamento è questo allora immaginate il coin join facciamo così torniamo un attimo dietro cos'è il coin join è un sistema dove diverse persone si mettono d'accordo per mettere i loro bitcoin insieme mischiarli e poi ridividerli benissimo con il join market si vanno quindi a creare due persone quella del takers e quella del makers allora ci sono i makers che sono delle persone che mettono della liquidità a disposizione cioè dicono guarda io ho qua 5 bitcoin che lascio qui e che aspetto che qualcuno che invece è il takers abbia bisogno di utilizzare per mischiare i suoi bitcoin io se sono il takers vado alla ricerca di qualcuno gli dico guarda ascolta ti va di mixare i nostri bitcoin insieme ti pago una fee cioè tu mi presti i tuoi bitcoin per mischiarli insieme ai miei e poi io mi riprendo i miei e tu ti riprendi i tuoi il makers prende un profitto perché non ha fretta è lì che aspetta il takers paga invece una fee perché invece vuole fare il coin join vuole fare il mixing roba veramente minuscola e piccolissima non vi aspettate profitti stellari e robe del genere però insomma è una soluzione dove entrambe le parti poi ottengono più privacy una però diciamo un po' più fretta quindi è disposta a pagare l'altra non ha fretta e dice invece io voglio incassarmi la commissione ma 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 per entrare a fondo in questa soluzione io vi straconsiglio veramente prima di tutto di ascoltarvi la puntata del podcast del priorato del bitcoin del mio amico Tartlecute perché innanzitutto vi dà proprio un'infarinatura generale anche su wasabi anche su wasabi cioè il coin join e su whirlpool cioè samurai e poi parla molto a fondo di questo join market e successivamente dopo che vi siete ascoltati la puntata del podcast dove tra l'altro siamo anche andati ospiti con Aloha Finance ciao Tartlecute e ciao anche Aloha Finance anche se il podcast è mio vabbè poi dopo potete andare qua sul sito e invece guardarvi tutta la guida completamente scritta dovete avere un vostro nodo fine quindi vedete voi se avete già un vostro nodo siete abbastanza esperti e ve la sentite di fare questa cosa tantissima roba altrimenti io insomma lascerei perdere perché vi andate a complicare la vita e ora vi faccio vedere con wasabi e il suo coin join è tutto molto molto sicuro molto molto facile è molto molto rapido molto molto veloce molto molto tutto molto molto vantaggioso direi che è la parola giusta vantaggioso allora parte 1 apertura dell'applicazione fatemi però fare un un rapido solamente due rapide parole perché giustamente uno si chiederà ma Marco perché se lo ritieni così molto meglio delle altre soluzioni anche i massimalisti non utilizzano questa ma utilizzano invece quella più complessa col proprio nodo allora ovviamente più è complesso più io riesco a gestire anche a livello di privacy quello che voglio diciamo che il problema con wasabi non è legato alla privacy perché come vedremo è molto 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 focussato concentrato sulla privacy utilizza tor utilizza dei filtri utilizza le blind signature insomma ci sono un sacco di cose ma la cosa principale per cui molti massimalisti non sposano un po' wasabi è che wasabi da quello che si è capito collabora tra virgolette finanzia in maniera indiretta diretta comunque ha a che fare con chain analysis che è quella società che invece va a fare analisi appunto sulla blockchain e va a farsi in sostanza i cazzi degli altri quindi diciamo che se voi utilizzate wasabi e wasabi ha delle fee che dovete pagare nel caso di joint market noi pagavamo i makers in questo caso paghiamo wasabi quindi lo fa come un ente centralizzato paghiamo wasabi che poi lavorando con chain analysis è come dire stai finanziando quelli che ti romperanno le balle sulla blockchain vedetela un po' così per l'abilità che ho comunque mi va bene questa cosa qui anche a livello filosofico un po' mi girano le balle però vedrete che insomma il tutto viene ripagato con la facilità d'uso e l'immediatezza primissima cosa adesso da andare a fare quindi è quella di scaricarci l'applicazione andiamo sul sito vedete che si fa tutti i propri controlli siamo qua sul download e quindi ci scegliamo il nostro bellissimo programma noi ce lo scarichiamo per il mac e ovviamente qua l'ho già fatto no? con i programmi di cucina l'abbiamo già messa in forno una volta scaricato e installato lui è subito pronto e quello che ci troveremo davanti è praticamente questa schermata ora voi probabilmente avrete la schermata per aggiungere un nuovo wallet cosa abbiamo? ho la creazione di un wallet che noi dobbiamo andare a fare tramite le sue 12 parole quindi noi creiamo un nuovo wallet lui ci dà la seed phrase ovviamente questa non utilizzatela perché ce l'ha tutta youtube quindi è solamente di test qua sopra non ci metteremo niente vi salvate queste 12 parole e quindi avete praticamente il vostro portafoglio no? qualsiasi portafoglio bitcoin abbiamo parlato un sacco di volte e praticamente 12 parole quella è la nostra chiave privata oppure possiamo andare a collegarci un hardware wallet quindi vedete qua ci fa vedere il ledger questo penso sia non lo so sembra il cold card il trezors il bitbox 02 quindi potete collegargli i vostri hardware wallet attenzione per fare il coin join tramite wasabi non potete farlo con l'hardware wallet perché l'hardware wallet cosa fa? lui deve essere connesso al computer perché voi dovete firmare le transazioni capite bene che quindi è impossibile voi se volete fare coin join dovete utilizzare un wallet che vi crea lui o che magari fate il recover quindi fate il recover vi mettete qua le vostre 12 parole bla 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 vedete scrivete lui vi dice tutto quello che potete mettere tra l'altro non vi fa premere parole che non ci sono bellissimo sta cosa non la sapevo figata quindi vi recuperate 12 parole magari da un altro wallet oppure il vostro hardware wallet prendete le 12 parole e le mettete qua sconsigliatissimo non mettete mai le 12 parole o 24 che siano dell'hardware wallet mai da nessuna parte e insomma qua ci sono tutte le cose per recuperare se non sapete cosa state toccando evitate i pat di derivazione quanti indirizzi da andare a controllare robe insomma che per un utilizzo normale classico non ci servono oppure banalmente se avevate già salvato un wallet con wasabi li fate import a wallet e se non mi sbaglio qua si importa i file sono tipo i json i json file comunque se voi avete altri portafogli potete fare così una volta che avete creato il vostro benedettissimo portafoglio avrete questa schermata qua dove voi dovrete settare una password quindi questa password serve perché ogni volta che io e voglio entrare sul mio portafoglio non devo rimetterle 12 parole non devo sbloccare il mio hardware wallet anche voi sull'hardware wallet avete una password per sbloccarlo stessa identica cosa solo che questo è software è installato sul computer quindi mettete la password e tac adesso lui si sincronizza un attimo con la blockchain non è che se la scarica tutta si deve solo sincronizzare quindi la prima volta ci mette un pochettino un po' di più ma roba comunque molto rapida e una volta finito ecco qua ora io ho attivato la discrete mode cioè ho fatto in modo che voi non vediate tutti i miei dati mi sembra il minimo e vediamo subito come si presenta questa applicazione in alta sinistra abbiamo il balance qua in centro abbiamo i nostri token diciamo i nostri bitcoin quanto sono privati appunto adesso poi capiremo questo punteggio in base a cos'è il tasso di cambio e qua abbiamo la lista di tutte le transazioni se io per dire per caso rimanessi fermo qua sopra vi dice ad esempio guardate qua incoming 0.05 btc oppure potete andare su outgoing vi dice quanti bitcoin sono usciti insomma ci potete star fermi sopra con la freccettina e vi dice quello che sta succedendo qua sotto vedete che ogni tanto spunta eccolo qua il coin join perché il coin join potete farlo vedete o premo io play e quindi lui inizia a dire ok adesso facciamo il coin join cosa che lui ora non ha bisogno di fare perché sono già privato al 100% o comunque se io lo lascio automatico e adesso vediamo come fare lui da solo mentre il programma è aperto va a farsi coin join allora prima di andare a capire tutte queste cose qua vi faccio vedere gli altri pulsantini vabbè qua sopra abbiamo diverse funzioni che possiamo utilizzare quindi noi da qui possiamo che ne so andare a scrivere wallet per andare a gestirli quindi che ne so clicco su wallet folder e ci entro e ci esco posso andare a cliccare che ne so su invia se devo inviare dei btc anche qua è molto molto semplice a chi voglio inviarli e quindi qui metterò l'indirizzo bitcoin bc1 bla 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 l'ammontare quanti bitcoin voglio inviare e fine clicco su continua se voglio ricevere invece qui posso fare delle cose o posso andare a scrivere il nome quindi che ne so sto ricevendo da giacomo ad esempio oppure posso dirgli guarda semplicemente qua in basso vedete vi dice unused receive address cioè indirizzi di recezione non utilizzati e qua mi dice guarda che tu una volta hai creato questo indirizzo ma non l'hai mai utilizzato usa pure questo e quindi di nuovo possiamo utilizzare o il QR code o copiarlo direttamente molto molto easy molto molto facile quello che ci interessa ancora qua della home page no nulla direi che ci siamo abbiamo poi qua delle informazioni rapide wallet info wallet settings coin join settings e wallet statistics andiamo a vedere i settings quindi andiamo a vedere le impostazioni e come impostare il coin join allora beh banalmente dark mode in base a come vogliamo il programma perché l'ho disattivata solo per farvelo vedere vabbè fa schifo no lo voglio scuro ok preferisco il tema il tema così avvia wasabi quando il computer si avvia lascio in background se io chiudo l'applicazione copio automaticamente gli indirizzi incolle automaticamente utilizzo di tor ecco cosa non vi ho fatto vedere adesso ve lo faccio vedere chiudi tor quando wasabi si chiude io l'ho disattivato scarico automaticamente le nuove versioni e fammi vedere in in btc poi bitcoin qua abbiamo la rete vabbè rete principale non state a fare esperimenti se volete fare il test net ma lasciate perdere l'end point e dust threshold sarebbe diciamo praticamente la soglia cioè gli posso dire guarda sotto a tutto quello che è 0.01 per me è praticamente polvere viene definita così dust e quindi non me la far vedere per me è come se non ci fosse invece noi la vogliamo vedere perché siamo poveri e quindi anche un singolo satoshi per noi è importante impostazioni avanzate abilità gpu se vi serve era abilitata di default e l'ho lasciata così ecco quello che volevo farvi vedere però giustamente è che come vi dicevo tor si tor miau wasabi va sotto rette tor quindi qualsiasi operazione che lui va a fare compreso il coin join è tutto mascherato cioè loro sono malati di privacy non so se avete visto il vlog di riga le persone mascherate quelle vestite tutte di blu gente che lavora in wasabi oltre a tor comunque ha anche dei filtri suoi per il coin join adesso quando andremo poi nella parte effettiva che vi faccio vedere come si imposta ma praticamente è già tutto fatto non c'è poco da cliccare vi spiego anche come funziona il coin join su wasabi perché giustamente uno dice ma come fanno cioè a prendere i vari token delle varie persone e poi a rimandarceli quindi sanno tutto di noi no no c'è una soluzione ma andiamo a vedere quello che ci interessa ovvero coin join setting finalmente ci siamo ce l'abbiamo fatta siamo qui dove possiamo andare a vedere come si fa il coin join 75 minuti di video solo per questi due minuti che vi servono vedete che qua c'è un'opzione che ci dice automatically start coin join cioè fallo partire in automatico quando è qua impostata la soglia io gli ho detto guarda quando ho più di 0.01 btc fai partire il coin join la cosa bella è che sotto questa soglia in realtà il coin join è gratuito ho letto così sul sito quindi se voi dite no guarda per me il coin join può partire da sempre anche quando c'è solo un satoshi fatelo pure che dovrebbe farlo gratuitamente adesso andiamo a vedere anche quali sono i costi del coin join ma prima vi devo spiegare questa cosa qua perché c'è una strategia di coin join che noi possiamo andare a modificare lui ve ne dà tre diciamo principali minimizza costi massimizza velocità o massimizza sicurezza banalissimo minimizza costi vuol dire fai il coin join quando è meno caro con meno frequenza anche che ci metto un mese a diventare anonimo chi se ne frega massimizza velocità cioè lo voglio subito non mi interessa che sia tanto anonimo che costi devo essere immediatamente anonimo oppure massimizza la privacy guarda puoi metterci tutto il tempo che vuoi puoi spendere quanto vuoi ma io voglio essere sicuro al 101% che i miei btc sono anonimi come leggiamo qua sopra wasabi si prende uno 0.3% di coordination fee cioè deve coordinare tutte queste persone che vanno a mettersi insieme e poi ridividere i btc più mining perché quando noi immaginiamo il coin join noi lo immaginiamo come una pratica strana non sono nient'altro che transazioni cioè transazioni di tante persone che vanno verso un unico indirizzo e poi da questo indirizzo transazioni che se ne vanno tutte verso nuovi indirizzi quindi queste transazioni devono essere messe in un blocco per essere confermate ed ecco perché il coin join ha anche dei costi di mining 0.3% che io ritengo comunque onesto ci sta secondo me è giustissimo insomma non ve ne accorgete neanche praticamente ma la cosa che noi interessa è anche il pulsante custom is allora qui abbiamo un po' di cose importanti vi spiego l'anonymist core target questo praticamente ci dice è un punteggio creato da wasabi che ci dice quanto siamo anonimi vedete che va da 2 a 300 allora inizio a dirvi che wasabi ritiene 100 un valore comunque già molto molto sicuro molto stabile molto tranquillo se volete potete esagerare potete andare a quanto volete io sono sincero in realtà l'ho impostato molto meno ero tipo sui 10 punti avevo impostato il mio anonimi score adesso vi spiego che cos'è e poi però prima vi voglio far vedere anche che noi possiamo scegliere la preferenza temporale cioè ogni quanto vogliamo coinjoinare ogni ora ogni giorno ogni settimana ogni mese e quindi qua gli diamo le impostazioni banalmente io vi consiglio di selezionare queste qua base vedete che voi selezionate minimizza costi lui vi mette un anonimi score di 5 settimanale se voi gli fate massimizza privacy vi mette un anonimi score di 75 con un coinjoin orario ok quindi stessa cosa di prima più sicurezza meno tempo eccetera 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 forse forse non consigliavano 100 consigliavano 50 forse come livello già molto molto buono per la privacy mi pare di sì allora che cos'è questo anonimi score target banalmente l'anonimi anonymity score prende come riferimento diversi parametri per dirvi quanto sono anonimi i vostri bitcoin uno di questi parametri il principale ve lo faccio vedere qua è quello che si chiama anonymity set anche definito anon set come funziona allora vediamo di spiegarlo ripassiamo di nuovo come funziona il coinjoin facciamo finta di avere tre persone alice bob e charlie mettiamo caso che alice abbia 0.1 btc che bob abbia 0.3 e charlie 0.4 qual è il problema che se io voglio fare un coinjoin tra queste tre persone il massimo che posso coinjoinare tra tutti e tre sarà 0.1 perché la somma più bassa che c'è è quella di alice che ha 0.1 quindi nel caso in cui io coinjoini tra queste tre persone io su 0.1 btc avrò un anon set di tre perché sono tre persone che hanno potuto mettere il il loro btc per coprire quelli di tutti gli altri no? se avete giocato a poker stessa cosa dell'all-in se io ho 10 euro e l'altra persona ha 50 euro se io faccio all-in con 10 lui dovrà mettere altri 10 per guardare non è che deve mettere tutti e 50 solamente perché ho l'in quindi quello che ne ha di meno è quello che setta la soglia diciamo così del anonimum set più grande avete capito anche tutto il discorso di prima del join market perché quelli che mettono liquidità vengono pagati è chiaro? perché tu dai la possibilità a più persone di far coinjoin più bitcoin hai più puoi aumentare l'anonimum set e quindi più puoi rendere anonimi questi btc perché è importante avere un punteggio alto di anonimum set barra anonimity score e tra l'altro vi faccio anche vedere una cosa molto interessante da qui se io vado su wallet settings no scusate ho detto una puttanata se io vado su eccolo qua vi faccio vedere ad esempio che questi 0.0002 btc hanno un anonimity score di 29 mentre che ne so questi 0.001 hanno un anonimity score di 10 e via dicendo cioè in questa fascia ci sono rappresentati tutti i miei UTXO e adesso vi spiego bene anche cosa sono gli UTXO qualcuno di voi sicuramente già lo saprà ma così avete il discorso completo al 100% e ogni UTXO ha un proprio livello di anonimità perché ogni UTXO ovviamente più è piccola più è facile che ci sono persone che partecipano a quell'anonimity score cioè immaginate se voi avete 100 bitcoin e dovete renderli anonimi vuol dire che voi dovete transare 100 bitcoin con altre persone non è facile trovare altre 100 persone con cui fare questi mix perché saranno in pochi ad avere tutta questa liquidità di conseguenza più diciamo così l'UTXO è piccola più è facile avere un anonimity score alto adesso cerchiamo di capire un attimo cosa vuol dire meglio UTXO è perché queste cose qua andiamo eccolo qui è perché queste cose qua c'entrano non solo con l'anonimity score target ma anche con il red coin isolation abbiamo detto red coin isolation qua ci dice solamente solamente un singolo coin con un anonimity score di uno può entrare nel coin join allora cosa vuol dire che quando io faccio un coin join ho diverse UTXO cosa sono questi UTXO allora bitcoin dovete immaginarlo come allora vi faccio un esempio facciamo così anche se forse non è chiarissimo ma si dovrebbe capire io prendo delle banconote io in questo portafoglio avevo 40 euro ma 40 euro che erano divisi in una banconota da 10 un'altra banconota da 10 e una da 20 quando io voglio spendere questi 10 euro non posso se io devo comprare 7 euro ad esempio devo comprare questo coso a forma di bitcoin costa 7 non posso dire allora lo divido in 7 li strappo e te ne do un pezzo te li devo dare tutti e tu mi devi dare del resto ok quindi il nostro portafoglio bitcoin anche se noi lo vediamo che ne so con il saldo totale di 0.1 btc in realtà è formato da tante piccole UTXO da tante piccole banconote che vanno a fare il totale e quando noi spendiamo questi UTXO devono essere spese interamente quello che poi ci torna indietro è il resto stessa identica cosa pago con 10 mi tornano 3 euro in moneta e quindi è esattamente questa una transazione bitcoin quel è il punto che se io metto questi 10 euro li firmo a mio nome e scrivo Marco Costanza e poi lo faccio anche in tutte le altre banconote se io vado a fare un coin join con tutte banconote segnate da me è più facile euristicamente cioè calcolando statistiche probabilità eccetera 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 capire quali erano le mie dove sono andate a finire come si stanno comportando e quindi il coin join potrebbe essere meno efficace cioè dovrei magari fare più coin join fare molti più step per rendermi veramente anonimo perché è più facile risiedere a me invece se io abilito red coin isolation lui dice tu hai queste tre banconote benissimo prima fai un coin join con questa e via poi fai un coin join con questa e via e poi fai il coin join con questa se invece io disabilito questa funzione dice va bene sai cosa mettile tutte e tre insieme fai il coin join con tutte insieme e ti va bene così potete lasciarlo se volete appunto più sicurezza vi consiglio di lasciarlo ovviamente deve fare più coin join nel caso cambiate un anonymity score di uno su più su più utxo e finì allora io sinceramente lo lascio sempre su minimizza costi quindi per me questo è il è la base anonymity score target 5 settimanale e fine e ragazzi come vi ho detto far partire il coin join è totalmente automatico cioè io vado qua sotto vedete lui mi dice guarda che il tuo wallet è già privato ora quindi non posso farvi vedere com'è ma nella guida vedete qua che il coin join vi dice in attesa di altri partecipanti e poi coin join in progress quando effettivamente sta partendo domanda da un milione di dollari perché anche di questa cosa voglio parlarvene com'è possibile avere privacy ed anonimato se tutta questa pratica è gestita da un ente centrale che è Wasabi cioè il wallet Wasabi è un'azienda che deve fare utili li fa tramite questo 0,3% di fee che si prende per organizzare il coin join ma quindi se lo fa un ente centrale se è lui che mette tutto insieme e poi ridivide allora lui sa dove vanno i miei i miei btc quindi non ho anonimato no non è così perché Wasabi utilizza le cosiddette le cosiddette firme ciaomiane blind signatures firme cieche cioè ora tecnicamente non so spiegarlo però dovete immaginarlo così praticamente loro mettono tutto insieme tutto sotto rete tor tutto in anonimato perché poi la transazione che vanno a firmare loro hanno solamente bisogno di sapere che è tutto corretto cioè che i dati che ci sono lì sono congruenti cioè se il dato deve essere se la persona x mette 0.1 allora deve uscire 0.1 fine se le regole sono queste Wasabi può firmare tutte queste transazioni quindi come se firma al nostro nome l'invio su un altro indirizzo perché quello stiamo facendo come facciamo con join spostiamo un utxo da un indirizzo ad un altro ci dice guarda tu questa cosa qui la stai prendendo da là e mettendo là ma io non lo so di chi è questa cosa qua e di chi è quella roba là io so solo che questo movimento è valido quindi firmo la transazione perché si può fare ma non so quello che sta accadendo io sto solo firmando che tutto sta avvenendo a norma di legge legge vabbè a norma di protocollo a norma di codice ma non so minimamente chi cosa e quando stanno facendo le cose so solo che questa cosa è così e quindi ragazzi questo è il segreto cioè questo è il modello che utilizza wasabi per organizzare il tutto in maniera centrale quindi ripeto non state utilizzando una soluzione decentralizzata ma questa centralizzazione avete visto che comodità allucinante vi porta e adesso voglio rispondere anche ad una domanda che non so chi si è fatto ma era importante farsi cioè ma se io chiudo il programma mentre questo fa coin join ma se mi va via la connessione internet cosa succede? allora banalmente e ci ho risposto anche qua sul sito niente non succede niente cioè mentre fate il coin join wasabi deve rimanere aperto cioè per portare il coin join alla fine per fare in modo che sia effettivo wasabi deve rimanere aperto col computer acceso che sta funzionando collegato a internet e fine ma nell'ipotetico caso in cui vi va via la connessione internet va via la corrente si spegne il computer si crasha il programma qualsiasi cosa non perdete nulla questo perché le transazioni di coin join sono atomiche atomiche cosa vuol dire? che come un atomo cioè poi è indivisibile quindi o avviene o non avviene non può esserci un cavolo stava partendo poi si è interrotta la connessione si è tranciato a metano ora non non è più possibile recuperarli non può accadere quindi o non avete fatto il coin join o l'avete fatto queste sono le uniche due soluzioni che ci sono gli unici due risultati di questa operazione quindi state pure tranquilli siete al sicuro lasciate pure il vostro wasabi là dietro che lavora che intanto lui fa tutte le cose al posto vostro ed ora una piccola chicchetta allora una chicchetta perché è importante capire una buona pratica poi di gestione delle nostre UTXO come abbiamo detto prima noi adesso avevamo magari 40 euro tutti insieme li abbiamo splittati li abbiamo divisi in 20 di qua 10 di qua e 10 di qua e adesso queste cose noi le vogliamo tenere il più anonime possibili qual è l'errore che posso fare? se io ho messo 40 questo me li ha distribuiti così e io dopo prendo tutte queste banconote e le rimetto insieme perché dico ah guarda adesso tutto il coin join che ho fatto lo metto su un altro indirizzo perdete di nuovo l'anonimità perché se io prima avevo 0.04321 btc li sposto ed ho esattamente la nuova cifra sul nuovo indirizzo ci vuole pochissimo a collegare quei nuovi bitcoin a quelli che c'erano prima quindi è chiaro che io ho messo quei btc li ho coinginati e poi li ho rimessi insieme questa non è una cosa da fare ve lo mostro anche qua nell'esempio quello che noi non dobbiamo più fare è unire questi UTXO o meglio allora ci sono delle buone pratiche prima di andare a vedere l'UTXO vi spiego queste buone pratiche cioè spostare i propri bitcoin con piccole cifre quindi cerco sempre di spostare btc con 0.01 0.02 mai cifre grosse mai poi ci può anche stare comunque se voglio spostare 0.04 btc li sposto chi se ne frega però più su un piccolo cifre meglio è non utilizzare mai cifre intere quindi non inviare mai 0.05 0.025 0.7 cercare sempre numeri strani tipo vedete 0 4 3 9 8 7 5 questo già aiuta tantissimo e soprattutto spostare ad intervalli casuali non è che io faccio il coin join e dopo due minuti inizio a rimettere tutto a posto insieme e girare magari faccio il coin join poi un indirizzo lo prendo e lo spendo dopo una settimana l'altro dopo un mese l'altro dopo tre mesi insomma faccio in modo di fare le cose in maniera più randomica possibile ma vi faccio vedere una funzione segreta che vi appare se voi premete qua è control penso anche su windows sia control control d più c vi appare questa schermata qua allora utso selection cosa vuol dire che io qua ho le singole banconote cioè io in questo caso è come se stessi guardando le singole banconote che vanno a formare il mio saldo totale qual è la cosa bella che io posso selezionare una sola di queste banconote e vedete cliccare su invia coin selezionati cioè io posso queste banconote non dover più spenderle e ottenere del resto perché qual è il problema che noi abbiamo detto che se io voglio pagare questo 7 euro e una banconota da 10 quando io pago con 10 mi tornano 3 di resto da questa transazione dal resto io euristicamente posso dire allora quello è un tuo indirizzo perché tu hai preso del resto quindi hai pagato qualcuno hai sposato i soldi e poi ti sono tornati indietro se io invece devo pagare questa cosa e riuscissi a pagarla con una banconota che costa proprio 7 o facciamo finta devo pagare un'altra cosa che costa 10 e una banconota da 10 io pago e fine ho scollegato totalmente quella cosa da me non è più mia non ha più niente a che fare UTXO Selection sarebbe proprio questa cosa quindi seleziono le singole banconote e le spendo come voglio io quindi dico ok voglio spendere questa UTXO che ha un anonymity score di 20 voglio spendere questa che ha un anonymity score di 30 oppure questa di 33 25 27 insomma scelgo io singolarmente quello che voglio spendere ha senso di nuovo se siete in modalità paranoia on altrimenti utilizzate le best practice che vi ho detto prima quello di non mettere cifre intere spostare intervalli regolari eccetera eccetera che andate lisci tranquilli come come l'olio tranquilli l'olio è tranquillo vabbè lisci ok quindi rapidissimo recap su Wasabi open source facilissimo comodissimo immediato si scarica si esegue in tre secondi sicuro e quindi ragazzi questa è la soluzione che mi sento di consigliarvi se volete appunto fare coin join ma adesso andiamo verso l'ultima soluzione quella del lightning network perché io magari posso essere una persona che non vuole installare software non vuole soluzioni centralizzate non vuole qualsiasi cosa voglio utilizzare solamente i sistemi che ho già adesso a disposizione ad esempio tramite lo smartphone posso fare tutto senza passare da samurai e quindi vediamo come si fa ma ragazzi se siete arrivati fin qua prendiamoci questo minutino di pausa mi rilasso anch'io guardate bevo anche un goccio d'acqua che c'ho la gola che va a fuoco e mettete un mi piace un commento scrivete un commento vi lascio 30 secondi per scrivere un commentino tipo grande Marco tutorial bellissimo il migliore come hai visto su youtube complimenti dammi il tuo indirizzo che ti invio di bitcoin non lo so potete scrivere commenti che preferite li apprezzo li apprezzo no grazie 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 a tutti per il supporto e in chi sto morendo di fame e continuo a morire di fame ragazzi dobbiamo far numeri non volevo dire non la devo dire dobbiamo far numeri dobbiamo arrivare almeno a 10.000 iscritti almeno almeno a 10.000 iscritti fate girare queste cose se vi sono utili possiamo proseguire dopo questo momento di carità possiamo proseguire allora mamma mia qua da spiegare sarà divertentissimo allora tolto il fatto che il telefono lo sto utilizzando per registrare e quindi sarà un po' più un casino filmare i video ma magari sfruttiamo le immagini qua della guida vediamo allora subito un disegno per capire come funziona lo spostamento tramite lightning network almeno così la perdita di tracce tramite lightning network allora spero che questa immagine renda bene l'idea noi abbiamo i nostri bitcoin on chain ok sul nostro portafoglio sul nostro wallet ce li abbiamo che ne so su un wallet sul telefono su blue wallet ce li abbiamo su un exchange ancora col KYC li abbiamo comprati su rely dove sono sono noi abbiamo lì tra l'altro ragazzi sotto trovate i link per iscrivervi alle piattaforme con i miei link referral avete anche voi degli sconti e a me anche arriva una parte quindi se volete comprare bitcoin con KYC lite sotto c'è il link di rely può essere può essere molto interessante allora abbiamo questi bitcoin quello che dobbiamo fare è abbiamo visto che praticamente cos'è un coin join è unire tante transazioni e rimandarle su indirizzi diversi allora cosa fai sfrutti il lightning network per avere privacy perché come abbiamo detto sul lightning network è molto più difficile fare chain analysis quindi come faccio vedere qua nell'immaginina io prendo i miei bitcoin e hop li sposto sul lightning network ora senza spiegare che cos'è il lightning network adesso immaginate che blocco questi bitcoin in un contratto ok quindi io arrivo blocco questi bitcoin e dico ok questi i miei quelli che erano i miei btc col mio keyway c sono bloccati qua sopra sull' lightning network io inizio a spostare i miei btc su un altro indirizzo come si fa questo banalmente se io utilizzo i servizi che vi mostro qua ovvero quello di phoenix e quello di breeze perché queste due applicazioni perché ragazzi queste due applicazioni gestiscono automaticamente un unico portafoglio come se fosse sia lightning che onchain se avete già scaricato blue wallet o l'avete visto in alcuni miei video blue wallet ha il wallet bitcoin e il wallet lightning sono separati qua è unito quindi è una comodità estrema allucinante e soprattutto vi permette di tornare da onchain a lightning e da lightning a onchain in modo iperfacile quindi noi abbiamo detto prendiamo i nostri bitcoin li spostiamo sull'ightring network quindi facciamo finta che questa quest'operazione qua sia quella di inviare i bitcoin su la nostra applicazione ad esempio phoenix phoenix o phonics non lo so come si dice phoenix phoenix anche qua veramente iper semplice vedete avete i due pulsanti restora o crea wallet create il wallet vi dà le 12 parole vi dà l'indirizzo di recensione eh sì di recensione di ricezione potete o inquadrare il qr e prendervi il codice quindi lightning vedete o avete il codice qr cliccate su copia e quindi vi dà il wallet lightning ma noi partiamo dall'onchain noi adesso da onchain vogliamo i nostri btc perché vogliamo noi le nostre chiavi private quindi cosa facciamo clicchiamo su show a bitcoin address una volta che abbiamo questo bitcoin address inviamo i btc che abbiamo ripeto su blue wallet su binance su young platform dove abbiamo vogliamo renderli anonimi li inviamo qua una volta ricevuti non dobbiamo fare altro che aprire l'altra applicazione la posso aprire benissimo sullo stesso telefono in questo caso breeze e faccio rissi via invoice perché sto ricevendo su lightning network in questo momento qua noi siamo in questo passaggio quindi ho preso bitcoin e li ho messi su phoenix phoenix ricordo che quindi me li tiene come se fossero anche su lightning network dal lightning network io sposto da phoenix a breeze praticamente io sto passando dai nodi di phoenix che quindi sanno che quei bitcoin sono miei a quelli di breeze che gli arriva semplicemente una transazione lightning e non sa di chi sono i bitcoin che gli arrivano non ha un indirizzo non c'è un kvc non c'è niente di collegato perché sono due entità separate quindi se phoenix lo poteva sapere perché gli arrivavano direttamente dall'onchain e quindi diceva ah però aspetta io vedo che prima di arrivare da me sti bitcoin erano su binance e quindi sono tuoi a questo punto invece io scollego completamente nel momento in cui da phoenix li passo su breeze non c'è più traccia nessuno sa più di chi erano a questo punto cosa devo fare una volta che su breeze ho fatto ricevi mi sono fatto arrivare btc via lightning sposto questi btc di nuovo onchain ok e quindi vedete io vado su un'applicazione qualsiasi e quindi poi qua su breeze cliccherò su invia eccetera 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 cioè me li invio dove voglio di nuovo su blue wallet li invio su electrum li invio su un altro portafoglio o li posso anche lasciare lì su breeze ormai quelli sono anonimi quindi per farvi capire un po' il passaggio di nuovo io c'è gli onchain li metto su lightning network li spedisco un altro nodo lightning network si perdono le mie tracce e li rimando ad esempio su un altro indirizzo onchain io qua nell'esempio ho fatto vedere che passano cinque blocchi in realtà non è detto cioè posso anche far tutto in più o in meno tempo quella cosa è soggettiva cioè è una roba che in un quarto d'ora riesco a risolvere due solamente cose su questo discorso primo in realtà non è macchinoso è molto facile è molto più difficile da spiegare che da fare perché poi da fare sono semplicemente degli invii bitcoin quindi prendo onchain invio sposto il lightning ricevo fine cioè sono due stronzate l'altra cosa proprio che volevo dirvi è che a livello di fee e di commissioni non so quanto convenga questo metodo piuttosto che fare il coin join perché c'è la prima commissione onchain da pagare poi vabbè la commissione lightning in realtà è praticamente gratuita e poi però c'è un'altra commissione per ricevere sul sull'onchain potrei lasciare tutto su brise quindi pagare una commissione sola sì quindi in quel caso va benissimo si può fare costa poco ed è anche molto semplice dovete capire poi dovete capire poi voi se vi va di tenere su brise cosa che sinceramente secondo me si può anche fare è un ottimo portafoglio un ottimo wallet quindi molto molto comodo in realtà potete anche fare questa soluzione qua allora mamma mia spero di aver spiegato tutto nel migliore no ho distrutto tutto ho spostato il tè di nuovo e c'è cazzo vabbè mi avvicino un po' non lo so non so più cosa sto inquadrando spero che sia tutto ok comunque prima di salutarci è stato un viaggio infinito nella mia testa c'è un bordello allucinante spero di aver spiegato tutto bene perché sono tanti passaggi e capisco che magari tramite il video qualcosa magari possa non esservi chiaro comunque cercherò di mettere tutti i riferimenti possibili vi ricordo che trovate la guida scritta qua sotto due cose importanti primo le fonti esterne vi consiglio di guardare questo video con Giacomo Zucco Riccardo Masutti e TurtleCute che parlavano proprio di Whirlpool Joy Market Wasabi e spiegavano un po' quali sono i pro e i contro quindi vi fate un'infarinatura generale ma soprattutto volevo rispondere fatemi chiudere anche qua la guida prima però che ci tengo a aver tutto ordinato e pulito ecco l'attac volevo rispondere alle domande che mi avete fatto su Instagram quando faccio questi video tecnici vi chiedo sempre su Instagram se avete delle domande così ci rispondo qua allora prima domanda ma se rendo anonimi i miei bitcoin poi non devo più dichiarare come ho detto all'inizio questa cosa è totalmente ininfluente la dichiarazione è una pratica richiesta per legge che non ha niente a che vedere con i dati che tu lasci in giro il fine del rendere un nome più bdc è garantire maggior sicurezza e privacy cioè è come dire ma posso passare con il rosso se nessuno mi vede sì però stai facendo una cosa contro la legge cioè la multa se qualcuno ti vede te la prendi lo stesso quindi è lo stesso discorso tu puoi fare quello che vuoi ma queste pratiche qua non ti scollegano dal lato insomma dichiarativo poi ognuno è padrone delle sue scelte sicuramente così hai un modo in più per eludere i controlli diciamo che è più difficile di salire alla realtà però sta tutto sta tutto a te basta fare una volta è meglio congenere più volte allora come scrivo qui dipende da come utilizzi il tuo UTXO lo stesso Wasabi quando voi inviate dei btc se non fate la UTXO selection ma inviate che li unite è lui stesso che vi dice guarda che hai perso anonimità devi riguadagnarla rifai il coin join e fa tutto in automatico quindi sì nel senso sì dipende come li spendi ma nel caso fa tutto Wasabi in automatico come li vendo se poi gli exchange rifiutano i btc che sono stati coincinati allora questo tra virgoletta è un non problema perché come ho scritto qua il fine poi è quello di scollegarsi dal KYC quindi perché dovrei passare su un exchange se io ho dei bitcoin e li voglio passare in fiat per forza di cose dovrò farci il KYC quindi nel momento in cui servirà a venderli per valuta fiat cioè per euro per dollari nel caso volessi farlo cioè no non si può sentire ma nel caso vorreste farlo non c'è problema fate il KYC su quei btc dite all'exchange guarda sì c'è stato un coin join ma non so nemmeno chi l'abbia fatto ora questi sono miei e te lo garantisco e quindi nessun problema se invece non volete trasferirli in euro non ha senso che li mettiate su un exchange semplicemente quindi li mettete da un'altra parte cioè se l'exchange non li accetta perché vuole il KYC e voi non volete il KYC non li mettete sull'exchange fine quindi cioè insomma è un non problema duttori io spero di aver risposto a qualsiasi dubbio qualsiasi domanda spero di aver fatto una guida completa ma soprattutto chiara perché quella è la cosa difficile qualsiasi dubbio comunque io vi ricordo che faccio consulenze faccio lezioni private quindi se avete proprio cose se avete minchiatine da risolvere ovviamente vi rispondo nei commenti ci mancherebbe se però avete dei dei problemi un po' più grossi volete delle soluzioni personalizzate che vi servono per voi e lì ci dobbiamo mettere in videochiamata e la risolviamo però sapete che insomma sono libero anche a queste cose qua io vi saluto vi ringrazio soprattutto oltre che per la visione anche per il supporto e noi ci vediamo con un momento di sbattività fatemi sapere qua sotto quali sono altre guide altri tutorial che vi piacerebbe guardare che ne so su come si utilizzano alcune carte su come si utilizzano alcuni wallet su insomma qualcosa che vi interessa realmente di pratico che vedrò di farci dei video buona giornata a tutti e a presto a presto a presto Grazie.